Buonasera, siamo qui con Antonio Romanelli, migliore in campo della partita, draggable contro All Blacks finita 5-1. Romanelli nonostante difensore centrale doppietta. Allora, descrivici questi due gol, Romanelli. Uno in segmento di testa, scambio con col d'argomento. Sul calcio d'angolo, con lo stacco imperiale. Secondo scambio, recupero la palla, scambio con campo. Uno, due, gol. Che gol di Romanelli, senti, proprio in prospettiva futura, questa squadra, c'è capitano che passeggia? Questa squadra punta a cosa? Vittoria, ovvio, primo posto. Primo posto, va bene, ho capito. Noi puntiamo alla salvezza, poi in zona playoff andiamo a vincere tutto. Attraverso i riguri? Attraverso i riguri, attraverso il calciotto. Va bene, allora. Anche senza riguri. Ciao Romanelli.